good morning anche se direi no si diciamo a mattina sono sono le undici e mezza qui quindi questo è sempre uno dei report che faccio più presto la mia storia mister master maestro o semplicemente o semplicemente david lynch it's february one 2022 and it's a tuesday in naples 53 and a half fahrenheit around 12 celsius this means that per me non è quella giornata veramente 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 fredda in questi giorni in questo periodo ma comunque le persone però comunque lo avvertono il fido però io come sempre invito a vedere il mio video che ho fatto qualche giorno fa per capire perché quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo come ripeto sempre ma perché impossibile ma a quanto meno per combatterlo mi scuso se mi sono spostato ma mi sono dovuto un attimo spostare purtroppo sì per quanto riguarda il video sui pensieri eventualmente faccio sempre separato da questo dico solo che oggi andiamo verso verso sanremo ovviamente la manifestazione importantissima qui appunto se ho modo ne parlo meglio nel video sui pensieri grande manifestazione canora qui in italia che gara canora che va avanti dal 51 anyway as you just see from the window vi ho le faccio vedere un frammento ho fatto poco fa dall'altra stanza absolutely today we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine insomma è una via di mezzo un po di nuvole un po di sole però ci sono molte nuvole pesanti vanno sul grigio che dire la dico la frase cult perché potrebbe essere cambiano le cose infatti la frase cult è ovviamente ovviamente le cose possono sempre cambiare un momento all'altro atta solo e sui sì infatti vedremo potrebbero cambiare anche in positivo ma vedremo anche se vi do una tendenza un peggioramento quanto riguarda i gradi credo si possono abbassare this afternoon it'll going be up to credo veramente dei gradi in meno qualche grado in meno ma vedremo quanti comunque penso pochi si said this so from the mythical window dico comunque the mythical window with the car and the curtain and the white and the white and pink curtain on the top and the and the white and pink curtain on the top and the and finally from the mythical keyboard amadi gx 640 ipg 625 have a great day in all the people follow the channel and the reports si sapete quando il tempo è così anche una via di mezzo le cose le dico con enfasi si dunque un saluto veramente a tutti mi raccomando il video di pensieri eventualmente separato da questo so again have a great day in all these people and everyone too